I dati di oggi, dei nostri primi 15 anni, ci danno uno spaccato del nostro fondo molto positivo e di successo. Sono 15 anni che Fondi Impresa mette al centro l'importanza della formazione intesa come leva di sviluppo e di crescita per le persone e per le imprese. Questi dati ci fanno pensare che è il momento di affiancare le imprese e i lavoratori anche nella grande sfida della digital transformation che significa nell'attuale mercato del lavoro una spinta in più per poter affrontare le difficoltà che il mercato pone e anche la chiave d'accesso a politiche e percorsi di sviluppo e di crescita.